Ben ritrovati, spero che stiate bene e vi mando a tutti un grande abbraccio. Allora oggi faccio un dolcetto semplice e veloce con delle sfogliatine glassate e della panna e due cucchiai di maraschino e un cucchiaio di cacao amaro. Allora per prima cosa vado a montare la panna. La panna è neutra senza zucchero, la trovate in tutti i supermercati, sono 250 grammi. Eccomici, la panna è pronta. Adesso andiamo a fare il dolce. Allora la panna è senza zucchero vi ho detto, perché le sfogliatine sono glassate, quindi c'è già lo zucchero. Poi un giorno come riesco vi faccio vedere come le faccio. Queste sono comprate, ma un giorno vi faccio vedere come preparo io le sfogliatine. facciamo un cucchiaio così profuma di maraschino. Allora poi faccio vedere come le sfogliatine. è un dolcetto buono che si fa in fretta e poi non costa neanche tanto mettiamo tanto ma fa niente succede, succede, succede abbiamo finito, mettiamo il cacao il cacao è amaro è un dolcetto ecco pronto semplice, facile, economico e veloce adesso lo mettiamo in frigorifero e fra una mezz'oretta è pronto da mangiare ciao amici buona giornata un abbraccio virtuale a tutti voi grazie, grazie per ogni cosa ciao belli, vi voglio bene grazie a tutti